S.O.S. nel quartiere San Bortolo di Vicenza è stata soppressa la linea 4 dell'autobus. Così queste signore si sono infuriate e hanno chiamato noi di Rete Veneta. Siamo persone anziane e abbiamo bisogno di questa linea per farsi la spesa, per andare in centro. Noi vogliamo la nostra linea. In realtà la linea 4 è stata sostituita dal perimetro. Basta telefonare e arriva. Anche solo telefonare è un problema. E così siamo andati con le amiche di Rete Veneta in comune perché potessero parlare direttamente con l'assessore. È vero che il perimetro ha un suo modo di attivazione che è quello del telefono. In effetti questa sarebbe una soluzione flessibile nel senso che voi siete abituati ad andare alla fermata, aspettare che arrivi l'autobus, sapete gli orari precisi e vi mettete lì. In questo caso invece è il perimetro che si adegua ai vostri orari. Quando andate, andate, schiacciate il pulsante e in questo caso 5 minuti e arriva il perimetro. Se non c'è altra alternativa, proviamo. Se non ci sono alternative, proviamo. Eravamo rimasti così con le nostre amiche. Oggi però, col rimpasto di giunta, ci sembra giusto che anche il nuovo assessore alla mobilità confermi questo impegno. Sì, ho visto il servizio di Rete Veneta, ringrazio anche i cittadini della segnalazione, una segnalazione molto puntuale. Il perimetro è un progetto che abbiamo avviato con questa amministrazione, funziona molto bene, ma i suggerimenti dei cittadini servono anche a migliorare ulteriormente il servizio e vogliamo dare una risposta, nello specifico, a quei cittadini che ci chiedono appunto un pulsante di chiamata in via Pascoli, che non sarà propriamente un pulsante, ma darà la possibilità, tramite l'utilizzo di una tessera e comunque in maniera molto semplice, di chiamare il perimetro. Ecco, quindi un beige come questo, una carta plastificata, in questo caso, come vedete, è il beige di Media Nord-Est, il nostro gruppo televisivo, che aiuterà i cittadini, semplicemente strisciandolo, a chiamare il perimetro, che diventerà una sorta di taxi. Sì, assolutamente, sapremo chi ha chiamato il perimetro, anche per una questione chiaramente di sicurezza e per evitare che il pulsante diventi, diciamo così, soggetto ad atti vandalici e daremo anche la possibilità ai cittadini appunto di utilizzare un servizio che li porta direttamente nel luogo dove vogliono. Un vero servizio personalizzato che a questo punto vorremmo sapere quando partirà. Come tempistiche direi che entro quest'anno, quindi entro il 2019, riuscire a dare delle risposte ai cittadini e magari anche riceverli appunto in assessorato. Molto bene, noi registriamo tutto, direi che per il momento ci basta, quindi la questione non finisce qui, ci vediamo presto, continua.